Benvenuti in un altro video di Camera Wargaming. Finalmente, dopo un lungo tempo, inizio a creare e a pittare. In questo video vi mostro come creare e come pittare altri cultisti per la mia band di guerra. Questo modello è totalmente kitbashed. Inizio con un'ultima miniatura improntata, ma ho bisogno di modificare questa miniatura per kitbash. Ho usato alcune pezze di un altro improntato, e ho iniziato a creare l'armi e addio altre cose. Per questo modello. Ho iniziato a modellare con alcune armi e a creare una forma verde. Lo stesso per l'axe e altre cose. Lo stesso per l'axe. 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 Dopo che il caffino sia finito, io uso il colore per rimanere la città. Grazie a tutti 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 Bye